Via il cemento da capo Colonna e l'annuncio dell'ormai ex sovrintendente ai beni culturali. Simonetta Bonomi, il plauso della Movimento 5 Stelle che aveva ingaggiato una battaglia a salvaguardia del prezioso sito archeologico. Il Ministero dei beni culturali ha fatto marci indietro sulla colata di cemento che è stata posata sui resti di un foro di epoca romana nel parco archeologico di Capo Colonna a Crotone, spiegando che quel cemento sarà rimosso subito dopo lo svolgimento dell'annuale pellegrinaggio mariano che si tiene a maggio. L'ho annunciato l'ex sovrintendente archeologica della Calabria, Simonetta Bonomi, che aveva autorizzato la cementificazione, sollevando le proteste di associazioni ai cittadini. Bonomi ha riferito di aver preso parte ad un sopralluogo sul piazzale del Santuario della Madonna di Capo Colonna insieme al direttore generale archeologia del Ministero dei beni culturali, Gino Famiglietti. È stato verificato che il cemento può essere rimosso grazie all'utilizzo di una macchina tagliasuolo. I reperti non verranno dunque danneggiati dalle operazioni, anche perché al di sopra è stato posto uno stato di ghiai e pietrisco. I parlamentari del Movimento 5 Stelle, Paolo Parentera, Dalila Nesce e Nicola Morra, a seguito delle affermazioni dell'ex sovrintendente dei beni culturali, Simonetta Bonomi, affermano di celebrare con i cittadini il trionfo della cultura sull'ignoranza del governo. I 5 Stelle continuano. Sapevamo di avere cittadini e buon senso dalla nostra. Dopo mesi di protesta sui cantieri, per le strade, nelle aule parlamentari, finalmente siamo riusciti ad ottenere una straordinaria vittoria, merito anche dei cittadini che hanno protestato a oltranza. Ora si dia spazio a proposte che rivalutino il patrimonio archeologico calabrese.